Nel quartiere San Lazzaro, più precisamente allo stadio Mancini di Fano, proseguono spediti i lavori di restyling della struttura sportiva. Dopo la nuova copertura della tribuna centrale, ora sono le tribune ospiti ad essere prese in considerazione. La prima parte dei lavori vede la realizzazione da nuovo di 500 posti, per poi in un secondo momento completare i restanti a lato monte. La ditta GM Costruzioni sta facendo un ottimo lavoro e sta andando avanti su due filoni principali. Il primo filone è quello del rifacimento della gradinata sul lato lungo dello stadio Mancini per ospitare gli ospiti delle partite. Dopo che due o tre anni fa i vigili del fuoco avevano mostrato alcuni problemi sul calcestruzzo, che è stato completamente rifatto, saranno fatte sotto la gradinata sia i servizi igienici sia un nuovo punto ristoro per accogliere gli ospiti. Nel giro di alcuni giorni invece verranno posizionate quattro nuovi torri di illuminazione, che saranno poi installate grazie all'ausilio di Potenti Gru, dando così al campo sportivo una luce scenica durante le partite notturne. Costo totale dei due interventi, 800 mila euro circa. Sostituiremo e demoliremo le vecchie torri Faro facendo nuove torri che daranno una luce molto più opportuna e comunque corrispondente alle richieste della Lega Pro allo stadio Mancini, che a quel punto diventerà veramente interessante perché dopo i lavori che stiamo facendo e che concluderemo nel mese di aprile-maggio, dopo aver fatto anche la copertura della tribuna centrale, lo stadio Mancini è a posto perché possa sopportare le sfide che il Fano Calcio vorrà fare nei prossimi giorni.